carissimi amici del canale telegramma dentro la notizia finalmente ci siamo tra breve sapremo l'esito delle elezioni presidenziali degli stati uniti anzi no ci sono forti avvisaglie che il risultato tarderà ad arrivare per i motivi che ormai sono diventati una pessima abitudine dello stato profondo ma chiunque sia il vincitore un grande risultato è stato già ottenuto da tutte le persone che anelano alla giustizia perché donald trump jd vance e robert kennedy hanno incentrato l'attenzione di tutto il mondo sulla punizione dei crimini legati alla psicopandemia e ai cosiddetti farmaci dannosi vediamo di pubblicizzare ancora di più questi argomenti essenziali potete vedere il video integrale sul nostro canale telegramma dentro la notizia iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegramma per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno potete permetterci di continuare il nostro lavoro con una donazione singola o mensile chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in sovraimpressione per essere avvisati dell'uscita dei nostri video iscrivetevi su youtube e su telegram più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robie